Allora ragazzi provo a fare un video buono alla prima perché ieri ho fatto una storia su Instagram dove chiedevo di farmi delle domande relative al progetto Golden Goal che uscirà giovedì e siccome mi sono addormentato poi mi sono perso tutte le domande ho preferito fare un video dove magari solo gli affezionati reali vengono a vedere capisco che è un po' macchinoso nelle storie schiacciare sul link andare sul canale tutto un casino però preferisco farlo per quelli che sono iscritti al canale di YouTube che insieme a Spotify diciamo è un po' il metro di chi mi segue anche per la musica e dove trova la musica. Allora cercherò di non dimenticarvi niente ma di essere sintetico allo stesso tempo che non voglio fare un video di 20 minuti. Allora praticamente giovedì salvo che Spotify combini dei casini perché può succedere uscirà questa raccolta Golden Goal. In questa raccolta dove ci tengo a sottolineare non sono presenti le canzoni fatte con la band quelle con i mega video con la mega promo eccetera quali notte rosa le donazioni quelle non c'entrano niente con Golden Goal. Golden Goal è una raccolta di brani a tema calcio quindi canzoni che magari sono o dedicate calciatori o che hanno titoli calcistici anche se affrontano altri temi o che anche se non hanno il titolo calcistico dentro hanno comunque dei riferimenti delle rime che sono diciamo legate al calcio. Uscirà questa raccolta di dieci brani più due bonus track dieci brani di cui ci saranno tre inediti tre brani inediti mai usciti mai sentiti da nessuno che era da un po' di tempo che avevo diciamo nell'hard disk ed erano pronti per uscire però aspettavo diciamo di fare questa raccolta questa raccolta che racchiude diciamo gli ultimi quattro anni di uscite calcistiche dove ci sono i brani come Nengolan, Milan Skriniar, Rosso Diretto, Carrozzieri, poi non mi ricordo tutta la tracklist comunque ci saranno in aggiunta tre brani ulteriori in collaborazione due dei quali avranno dei featuring anche e saranno un po' delle chicche ci tenevo a precisare che è un progetto che esce senza promo senza grosso spam non andrò nelle radio a parlare di Golden Goal è un progetto che esce perché voglio chiudere un cerchio con questo determinato tipo di canzone di progetto momentaneamente e volevo farlo raccogliendolo in un contenitore unico probabilmente ci saranno anche una serie limitata di coppie fisiche il progetto diciamo che era nato inizialmente che doveva essere un album poi sono usciti un singolo alla volta e si è completato in questo modo ci saranno due bonus track che sono poi le posse track quelle fatte con Nema e tutti gli altri 442 Coppa Mundial in fondo un intro e un altro anche questi questi sono esclusivi e inediti come le tre tracce inedite nell'intro ci sarà una super chicca perché l'intro è stato realizzato da un big non del mondo della musica ma strettamente legato al web ed è veramente probabilmente il numero uno di quella mansione nel web e ho avuto veramente piacere della sua collaborazione e della sua partecipazione nell'intro di Golden Goal però questo lo scoprirete poi quando uscirà la tracklist detto questo vi riassumo Golden Goal 10 tracce più due bonus track tre sono gli inediti il resto sono una raccolta di brani già usciti che trovate su spotify e trovate su youtube diversi pezzi hanno il videoclip quale Nengolan Carozieri Rosso Diretto bla 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 Milan Scrignar 442 Coppa Mundial le due posse track quindi anche quelle ci sono sul canale eccetera 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 tre inediti e qui faccio la sintesi dovrebbe pubblicarsi automaticamente giovedì alle 20 e 30 se non sbaglio spero che tutto vada a buon fine che ci sia questa raccolta per tutti quanti chiuso questo cerchio poi lavorerò al singolo vero e proprio per la stagione 2023 anche questo sarà in collaborazione con un big l'anno scorso c'era poltro quest'anno ci sarà un altro big sempre che vi stupirà alla combo vi posso spoilerare che non è un big dell'ambiente rap abbiamo fatto questa cosa e uscirà per una label discografica quindi volevo chiudere anche questo cerchio con Golden Goal perché poi ci sarà questa uscita discografica le pubblicazioni non saranno più strettamente legate a me avrò anche un altro progetto simile a Golden Goal di quattro brani in collaborazione con dei producer e questo sarà un altro capitolo ancora ma siccome il progetto non è ancora pronto rimarrà per il momento congelato lì quest'estate sicuramente ci saranno delle opportunità anche per per promuovere quello che sarà il nuovo singolo io non non farò grossa promo a Golden Goal proprio per questo motivo Golden Goal è un progetto fatto terra terra senza velleità di essere il disco più bello di sempre una raccolta una compilation chiamatela come volete dove ho voluto collaborare con amici infatti tre dei brani in due di questi ci saranno due artisti che io volevo ma che necessari ma che non necessariamente sono artisti da milioni di streaming o artisti che sono in hype o che sono stati in hype no artisti che piacevano a me o con cui avevo un rapporto di amicizia quindi è nato tutto veramente in maniera spontanea e non è luogo comune che si dice sempre sono nate queste canzoni e sono state raccolte in questo contenitore detto questo per chi è arrivato fino a questo punto del video io quello che vi chiedo è non di fare grandi smanettate iscrivetevi al canale qui su youtube che poi quando la roba esce vi arrivano le notifiche e ci saranno anche i brani ecco qui su youtube quindi iscrivetevi al canale lasciate commenti oppure scrivetemi anche su instagram che ne so e rimanete aggiornati seguite il profilo instagram perché poi è da lì che vi dirò sì è tutto in porto e il il progetto è online ed è su tutti i digital store quindi golden goal giovedì uscirà ore 20 e 30 state pronti state connessi e se avete altre domande altre cose lasciate un commento qui sotto iscrivetevi al canale e bella a tutti per aver ascoltato questa questa mattonata dove vi spiego dove vi spiego il progetto per me è importante che questo progetto anche se rimarrà in una nicchia in una cerchia ristretta venga apprezzato per quello che è ovvero una raccolta di brani fatti con amici e con passione alla prossima e alle prossime bombe estive ciao